Randevù a Città di Castello per il Comitato Regionale Arbitri dell'Umbria, che stamani ha scelto la cittadina Umbra come luogo per svolgere la sua consulta nella sala del Consiglio Comunale Tifernate. Per Città di Castello questa era la prima volta. Accolti dall'assessore allo sport Massimo Massetti e dal vescovo Domenico Cancian, alla presenza di Umberto Carbonari del Comitato Nazionale Associazione Italiana Arbitri, i 30 fischietti umbri guidati dal presidente Luca Fiorucci, prima di dare il via ai lavori istituzionali di categoria, hanno potuto apprezzare le bellezze della città, in una visita guidata alla Pinacoteca Comunale, la Collezione Burri a Palazzo Albizzini e la Basilica Cattedrale. La riunione della consulta regionale è coincisa con il debutto ufficiale del neopresidente della sezione di Città di Castello, Michele Ceccagnoli, che è stato salutato dal presidente Fiorucci con l'auspicio di far crescere nel migliore dei modi i giovani arbitri locali e proporli per le più alte categorie nazionali. La città di Castello, anche a livello arbitrale, ha sempre sfornato in qualche modo arbitri importanti. C'è stato l'avvicendamento del presidente di sezione, Maurizio Morvidoni, che si è dimesso per motivi personali ed è superentrato, è stato eletto venerdì scorso, il 4 di dicembre, Michele Ceccagnoli. Michele Ceccagnoli è un ragazzo giovane, con tante aspettative, ha creato subito un nuovo consiglio direttivo, giovani, di qualità, e sono convinto che faranno molto molto bene. Quindi mi auguro che riescano a far crescere questi giovani fischietti e a creare arbitri che ovviamente non rimangano solo a Castello, una regione umbra, ma arrivano a livello nazionale, alle più alte categorie. L'obiettivo principale è quello di creare, costruire, mettere in piedi una squadra sulle orme dei miei predecessori per far sì di portare avanti il lavoro da presidente e il lavoro di una sezione intera, per far emergere gli arbitri e per lavorare con gli arbitri giovani e investire nel futuro dei giovani.